E' una delle più grandi giocatrici di scacchi d'Italia, anzi è uno dei giocatori, perché sia nei campionati femminili sia in quelli assoluti ha fatto scacco matto, dimostrando che il gioco degli scacchi è tanto maschile quanto femminile. E' Marina Brunello di Rogno che a soli 24 anni vanta diversi titoli giovanili, due titoli italiani ai campionati nazionali femminili. E' stata la prima donna ad arrivare nel 2019 alla fase finale dei campionati italiani assoluti e ha conquistato una medaglia d'oro alle Olimpiadi di scacchi disputate in Georgia nel 2018. Una passione, la sua nata all'età di 5 anni in famiglia, quando il fratello Sabino, anche lui uno dei più grandi giocatori italiani di scacchi e oggi nella squadra della nazionale insieme a Marina, scelse lei e sua sorella Roberta, anche lei campionessa italiana, come sfidanti per allenarsi a casa. Mio padre sapeva le regole, gliel'ha presentato e poi c'è stato un corso a scuola all'elementari. A mio fratello è piaciuto molto ma non aveva persone con cui giocare e così ha insegnato sia a me che a mia sorella Roberta. Una passione, quella per gli scacchi, che ha permesso a Marina di viaggiare e scoprire il mondo e vivere esperienze uniche. Un gioco si è quindi trasformato in un'opportunità di vita. Di solito viaggio in Europa ma sono riuscita anche ad andare in Asia qualche paio di volte, in Cina e in India e sono state esperienze molto molto particolari. Vincere a scacchi richiede passione ma anche tanto allenamento. Marina si allena circa 30 ore a settimana. Con la squadra nazionale dal 2006 partecipa alle Olimpiadi che si svolgono ogni due anni. Quella del 2020 a Mosca è stata annullata. Ogni paese schiera quattro atleti su quattro scacchiere e nel 2018 in Georgia Marina ha ottenuto la medaglia d'oro per il miglior risultato individuale. Ma tra le varie soddisfazioni quella di essere stata la prima donna ad arrivare in finale al campionato italiano assoluto è stata una delle più grandi. E' stato abbastanza difficile a livello psicologico perché sono stata la prima donna ad avere l'opportunità di giocare la fase finale del campionato italiano assoluto e ovviamente sentivo la pressione di questo fatto. Ora Marina ha ottenuto il titolo di maestro internazionale o grande maestro femminile e per tutti coloro che vogliono seguire il suo esempio ha un consiglio. Che la prima cosa anche per noi è divertirsi, divertirsi molto giocando.